Ciao grandi, ho acquistato uno di tutti i fantascii capolavori, mi faresti il video di come prepari il mio ordine numero 234942? Grazie mille! Va bene! Questo è un mio disegno originale che ha già un paio di anni. Ricordo che eri in crisi perché continuavo a guardare la tela bianca senza trovare alcuna ispirazione. La mia paura era quella di creare quadri banali, ma ad un certo punto mi stufai e mi lasciai andare alla mia banalità. Feci un video e un testo in cui dissi queste parole. Sapete qual è la parte più difficile di un disegno? È immaginarlo. È ancora più difficile immaginare qualcosa di non troppo scontato e banale, ma attenzione a quest'ultima frase, perché siamo solo noi a sentirci scontati, perché ci conosciamo meglio di chiunque altro, ma per chi non ci conosce non siamo poi così banali, perché quello che distingue un disegno da un altro sono i dettagli, le sfumature e non il soggetto. Perciò il mio consiglio è che qualsiasi cosa fazzate o vogliate fare, preoccupatevi solo di essere al massimo di voi stessi. E intanto, guardate qua. Grazie. Grazie. Grazie.